Bene amici fratelli della congrega, luci che fanno molto incredibile walk, Hulk Hogan, la fanciullezza perduta recuperata, lo spirito fanciullesco, che c'entra col titolo in questo video. Ora vi dico, ma da quando in qua la gente blocca per prese di posizione, per cattiva coscienza o perché è colta da questa illuminazione, no? Perché regredisce, è regredita, per meglio dire, alla barbarie e vive di pregiudizi e le prime impressioni sono quelle che colpiscono, colgono le persone. Vabbè, detto questo, si blocca, si sblocca, ci si riappacifica, ci si riconcilia con la vita, bisogna combattere per le nostre libertà esistenziali, si viene presi per sfigati oppure per privilegiati, quindi mi prendo la patente di sfigato perché devo essere adattato, omologato, plastificato e circoscritto entro la dimensione univoca e massificata delle persone che ragionano tutti alla stessa maniera, inseriscono tutte le stesse foto, le mie foto su Instagram sono tutte uguali, no? Tutte differenti pur assomigliandosi. Detto ciò, prefazione ridicola, la gente è ossessionata alla paura del ridicolo, ed è questo che blocca, non una persona su Facebook, su Instagram, o nascondi utente da YouTube, no, blocca i loro slanci più sinceri. Ho smesso di essere menzognero, in verità vi dico che cercai sempre di essere vero anche quando raccontai bugie per difendermi, un meccanismo difensivo tipico di chi non viene compreso e per farsi comprendere deve mentire come gli altri. La lista del meglio e peggio vanno di moda questi video, assisteremo al nuovo show folcloristico, pittoresco e popolaresco, di persone che si vendono e le mosinano, e poi si piangono addosso, si compatiscono, si autocommiserano, no? Persone misere che si spacciano per ricche interiormente e culturalmente. Ho rivisto La prima ora di Wonka, bel film di Paul King dedicato ai fanciulli, ai ragazzi in tenere età, ma un film per tutte le età. Paul King da tenere d'occhio riesce a realizzare grazie anche all'apporto attoriale di uno strepitoso Timotation a me, attore molto in viso o troppo in vista, quindi visto come antipatico. Secondo me è molto bravo, molto giovane e può crescere a livello recitativo parecchio perché possiede le potenzialità, che se ne dicono che vedremo in Dune 2. Ma perché mi filmo così? Perché desidero un po' di attenzione? No, non siate troppo premurosi e apprensivi nei miei confronti. Paul King riesce ad associare il musical alla commedia divertente, con sprazzi anche di larità, momenti travolgenti, con l'entrata in scena di Rowan Atkins, alias Mr. Bean, e soprattutto questo Hugh Grant irresistibile, nanizzato e autoridicolizzato, sì, dopo essere stato un sex symbol, è tuttora anche se è un po' acento. Quindi Wonka fra i migliori film più colorati in questo mondo incolore, in questa società spenta che fa di tutto per spegnere gli altri, per affievolire i loro impulsi vitalistici e appiattirli. Andate a scorrere fra le mie recensioni, mi sono stati tolti i racconti di cinema, una scelta editoriale, ma forse ritorneranno, su Daruma View Cinema, sono poche. Dal 31 dicembre 2022, quando inserì l'ultima recensione dello scorso anno, corrispondente a Bardo, non Shakespeare, cronaca farsa di alcune verità, un film sottovalutato, forse sopravvalutato dai tipi snob che si credono intellettuali, di Ignaritu, quasi tre ore di rottura di palle o di incantevoli piani sequenze di invenzioni registiche impari. Allora, è uscita la serie tv Tulsa King nei primi mesi dell'anno, bella, non è un film, è una serie tv impostata a livello cinematografico con grande Silvestre Stallone che sa riciclarsi e reinventare il suo solito personaggio, stavolta gangster, ritornato alla ribalta, declassato nuovamente e mandato a fanculo, no? Tulsa era la seconda stagione, così come ci sarà la seconda stagione di Fubar con Arno Schwarzenegger, abbiamo assistito a questi due mockumentary, in tre puntate il documentario diciamo così su Schwarzenegger, lungometraggio invece, unica puntata su Netflix, quello su Stallone che si celebra, l'autocelebrazione, confessano le proprie pecchi, i propri peccati, Schwarzenegger tra di la moglie e con la domestica, True Lies, non è un film di James Cameron, non siamo in Armageddon di Michael Bay, così osteggiato, stracizzato, criticato, ma un regista comunque rinomato e soprattutto ricco, sfondato come Ricky Gervais, questo Armageddon sarà la mia ultima recensione per dare una viocina di quest'anno, domani dovrebbe venire, anzi verrà, salvo contrattempi e calamità, è un mio amico di Torino che non vedo dal 2018 a incontrarmi, dove albergherà, alloggerà e il falò dove assieme a lui andrà e si sposterà, chissà. Quindi, che si può dire, l'esorcista di David Gordon Green, non avevo dubbi sarebbe stato distrutto, è uno dei film più belli, perché ha quel momento incandescente, conturbante, quasi fluorescenti, illuminante, quando il prete viene intimato a svolgere il suo lavoro, l'esorcista a modo di padre Amort, non l'esorcista del papo, uno dei film più brutti, più trash, però un guilty pleasure, Russell Crowe ci sarà sì. E allora no, è una persona, una ragazza schizofrenica, come Reagan, Reagan era Reagan, l'edonismo reaganiano, Tom Cruise Commission Impossible, l'anno scorso con Top Gun Maverick, recesito la mia maniera, ridicolizzato, film quasi oscarizzato, fu candidato all'Oscar, il miglior film, rischia di vincere l'anno scorso, Mission Impossible, Dead Recon in part one, allora sono partito col cervello, sto terminando questo commissario falo 3, anzi lo terminerò per la fine dell'anno, perché mantengo le promesse, l'ultimo racconto di Cina è la promessa? No, il momento di uccidere, andrò a controllare, link in descrizione, Ricky Gervais, how to pronounce this name, cinico, aggressivo, brutale, anche lui ricchissimo, arricchitosi, sulla d'abbenaggine altrui o grazie o in virtù della sua scaltrezza, della sua strafottenza e riverenza. Prendere o lasciare, dicevo, l'esorcista, ecco, poi appare questo prete, lì c'è un momento di Cina eccezionale che non vediamo in Killers of the Flower Moon, film che sarà oscarizzato, no, sarà oscarizzata con tutta probabilità a Lily Glasson che batterà ingiustamente a Emma Stone perché ha già vinto per La La Land e premiamo un'indiana, sarebbe la prima, però riceverà molte candidature agli Oscar, ne vincerà solo uno o due per i costumi, un film scostumato, un film indecente, un film impresentabile, no, acclamato giustamente, un bel film ma stavolta la solennità, la silence di Scorsese non fa rima con qualità, fa rima con noia, sinceramente, con la recitazione parodistica di un DiCaprio caricato che cerca di imitare pateticamente Marlombrando il padrino e anche Jack Nicholson che già imitò con le sue smorfi. Quindi Killers of the Flower Moon non rientra nel peggio ma neanche nel meglio, lo dico a malincuore perché Scorsese è stato il mio idolo quando mi rattristai in QP e quindi mi identificavo molto con Travis Beacon e con Frank Pierce di Bring Out the Dead, alias Nicolas Cage di Al di là della vita, ultimo grande film quasi capolavoro di Scorsese del 99 con colonna sonora I Clash. Per il resto, da quando iniziò a lavorare con DiCaprio, Gangs of New York doveva esservi De Niro. Bel film molto mainstream, budget sempre più colossali per colossal non eccezionali, di media ottima qualità ma non raggiungiamo le vette del masterpiece. Tulsa King, Domenic Lombardozzi a proposito di Scorsese, l'abbiamo visto tutto truccato, più ingrassato di quello che è, lui è robusto, di Erishman, Tulsa King, mettiamo Reptile, non un grande film ma un grande benissimo del toro, ormai pachidermico però con questo sguardo magnetico e riesce a catalizzare l'attenzione dello spettatore anche in virtù di questa voce molto profonda. Poi mettiamo The Equalizer 3, tutti l'hanno distrattato e invece Francesco Pannofino nella versione italiana rende bello questo film ambientato in Italia con Remo Girone che è stato Ferrari in Le Mans, Le Mans 66, mentre questo Ferrari di Michael Mann è bruttarello, viene osannato e venerato, idolatrato da chi soffre di manie autoriali e di quel timore reverenziale nei confronti di un regista e comunque straordinario ma questo film tranne l'ultima mezz'ora col colpo d'ali è veramente quasi inguardabile, una fiction firmata a Rai Cinema e non me la tiro, oggi aspettavo quasi 50 euro, pensate che cifra straordinaria, da parte di UK Imprint per le mie vendite che mi permettono la villa Beverly Hills, nell'ultima anno ho recensito alcuni film di Lynch, strade perdute, io sono perduto, vado istradato, recuperato o voglio procedere lungo Lost Highway cantando con Lurid Magic Moments, No Moments, no, un solo momento, bello, Magic Moments, il resto un demente che sono io, ho andato talmente oltre con la mente da non essere capito dei deficienti, bella questa. Clint Eastwood, lo sciopero degli attori, ha terminato questo Juror 2 eccetera, perché io sono Eastwoodiano, più che Scorsese Anoram, mi annoia, mi deprime, mi malinconisce questo Scorsese invecchiato che se ne dica, le critiche che gli sono piute addosso sono giuste, il film non è un capolavoro purtroppo. E De Niro, De Niro che vedremo in Ezra, Viaggio di Famiglia, forse questo film di Tony Goldwyn, attore in c'è di Rosso, Traces of Red, ma è Lorraine Bracco, quella di quei bravi ragazzi, si è lei, però le cosce sono le sue nella scena di sesso, chissà, Tony Goldwyn presenta anche in Oppenheimer, lo cassiamo subito, una delle più grandi cazzate dell'anno, maestro Bradley Cooper che c'entra, batterà Helion Morphe che ha recitato con De Niro il film di Rodrigo Cortez, Red Lights, forse sì maestro, non è un capolavoro, ma i film migliori secondo me sono quelli da me visti, non tutti al Festival di Venezia, tranne quello che ha vinto il Golden Lion, Purt Sings e Masson, bravissima però il film non è un capolavoro. E allora quali sono i capolavori? Comandante con Pier Francesco Favino, adesso presente con Adagio che non hanno visto, ma pian piano vedrò, lasciamo tempo al tempo, chi va piano va sano e va lontano, a volte è solo lentissimo e quindi gli altri lo prendono giustamente per il culo perché deve attenersi ai ritmi veloci della società non tante però ultimamente diverse, anche su Retribution c'è stata la mia disanima, disamina, disanima, molti scrivono, ecco perché, no io ho esplorato, c'è stata una disamina della mia anima in questo commissario, farò tre. Matthew Modini, che adesso ha riniziato le riprese subito interrotte per via dello sciopero di Zero Day, serie tv, la prima con De Niro, doveva girare con David Russell, ma è stato pagato, l'attore più pagato per una serie tv che non abbiamo visto, poi ha avuto questi soldi di Harvey Weinstein. Tony Gollum presente in Openheimer, Barbie non l'ho visto, non ho visto Io Capitano di Matteo Garrone, chi l'ha detto che è un grande regista, forse è meglio comandante, perché è un film più verace, più spontaneo, sì, molto celebrativo, campanilista, dei tipi campani, dei napoletani, scusate, diciamo così, però dai, non male, ci sono dei momenti di bel cinema, doveva aprire il festival di Venezia Luca Guadagnino, quando uscirà questo film, le star non saranno presenti a Lido, erano tutte presenti, ma io non presente a fotografarle, perché avevo e dovevo, scusate mi sono impappinato, ma ci sta, fra luci, luminarie, macchine che sfrecciano, coi fari, il faro del comandante, o Captain, my Captain, o io Capitano, l'attimo fuggente, è uscito negli Stati Uniti The Holdovers, storia della Dead Poets Society, storia della Grinch, la Saint of Woman, lo vedrò, lo recensirò, non per dare una view, perché lì si è prenotato un altro, è già pronta la recensione, uscirà quando uscirà il film, in quelle giornate, giornate autoriali, giornate d'autore, giornate invernali, nel pomeriggio primaverile, in quel di Bologna, poi di sera, non autunnali, di pieno freddo appartenente nel bel mezzo di un gelido inverno, Kenneth Branagh, che c'entra, Assassini a Venezia, lo mettiamo, ma sì, mettiamolo, mettiamolo, non lo mettiamo, i miei uomini, chiedate a me dell'ometto, anzi del bambinetto, del cretinetti, e voglio invece ridarmi ai cori dell'Antoniano, forse al Cina di Michelangelo Antonioni, in comunicabilità, non comunicare con voi, quelli che studiano scienze delle comunicazioni, per diventare comunicatori, non si sa di cosa, delle banalità, e di questa falsa facoltà universitaria, istituita da Umberto Eco, che una sola mossa azzeccò a scrivere il nome della rosa, per il resto un trombone, che si prendeva molto sul serio e addirittura voleva istituire, l'ha istituita, non solo lui, un'università, per darsi il tono dell'uomo, di gran culturale beltà, per non essere ripetitivo con qualità, vedete, l'ermeneutica, l'esegesi, l'esegetica, l'etica, l'estetica, è grave dire che l'esorcista sarà linciato, preso a colpi di David Lynch, le persone si credono veloci come delle linci, ecco, sì, l'esorcista, a me piace David Gordon Green, a me è piaciuta la sua triade, la sua trilogia, trova l'oggi, di questo reboot, diciamo brutto per voi, Halloween, è giovane, io do fiducia ai giovani anche quando sbagliano, quando esagerano, mentre i vecchi, che non hanno un cazzo da dire, sono aridi e spenti, boicottano i giovani, perché hanno già la loro vita, sono già sistemati, ben pagati, pensionati, alcuni arricchiti, altri impoveriti, quindi ancora di più incattiviti, dai. arriviamo a 20 minuti, poi taglierò qualcosa nei momenti delle pappine, no, del mio impappinarmi e domani viene a trovarmi questo amico, posso andare a letto tardi perché arriva la stazione centrale, lo andrò a prendere alle 5, 4 addirittura, e poi gireremo un po', due giorni, scusate, si è spenta la mia anima, non ho la fiamma, quasi. Il falò, non date retta a quei cinquantenni, sessantenni che vi vogliono istruire, dovete avere una cultura, loro ne hanno combinato un cazzo se non darsi a questa visione mortuaria, parafrasando Carmelo Bene, del cinema, da chi pensa di possedere gli strumenti culturali e cognitivi per capirlo, però per non farlo e recitare una parte da zombie, da zombie, quindi dopo Halloween l'esorcista gradirei un remake dedicato a questi personaggi di David Gordon Green, di Romero, di Romero, no? Io me la tiro, no? La sigaretta aspiro, non aspiro a diventare un professore, non voglio insegnare nulla, e guai, guai, Dio mio, anche se sono ateo, essere padri a un altro, diceva Carmelo Bene, contrastando in quel famoso dibattito Vittorio Gasman, aveva ragione Vittorio Gasman, gli rispose per le rime, adoro le rime baciate, però basta, aveva ragione anche Carmelo Bene, parlando in senso lato, in generale non comandante, non caporale, non capitano, avete capito? Basta che vi consigli paternalistici perché questi vecchi hanno avuto la loro vita, lasciate che i giovani o quelli non giovani che però stanno recuperando la giovinezza perduta per colpa di persone non giovani, vecchie, che bloccavano la gioventù, lasciate che i non giovani, no? I non morti, i morti viventi, no? Le persone viventi e desiderose di vivere, vivano, sbaglino, è congiuntivo, cazzeggino anche un po', bevano, ballino, chi vivrà vedrà, vedremo come andrà. Siamo arrivati a 20, ciao!